Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, parliamo di Ivan Gazzidis. Parliamo di Ivan Gazzidis per tutelare la società Milan, per tutelare il gruppo rosso nero che dopo anni difficili sta tornando ai vertici del campionato italiano, che ha disputato un'ottima Europa League e che a febbraio inizierà i sedicesimi di Europa League. Quindi un ambiente che non va assolutamente destabilizzato, un ambiente che deve rimanere coeso, unito, che vuole raggiungere obiettivi importanti. Per cui vogliamo in qualche modo spegnere le voci, le voci di alcuni giornalisti rosso neri, preferiamo non fare il nome, che però avete immagino e sentito, che hanno riportato l'indiscrezione secondo la quale Ivan Gazzidis, o meglio il fondo Iliott, non vorrebbe rinnovare il contratto ad Ivan Gazzidis in scadenza il 30 giugno 2021. Questo per dissidi sulla gestione del club negli ultimi anni, quindi rapporti conflittuali prima con Leonardo, poi con Maldini, la tentativa di avvicinare un mister come Ragnik e non confermare Pioli, però non voglio entrare in merito. Quello che c'è da dire è che assolutamente al 22 gennaio 2021 la società non ha preso decisioni, la proprietà, scusate, la proprietà del fondo Iliott non ha preso decisioni, anche perché è troppo intelligente per destabilizzare l'ambiente rosso nero. Assolutamente la proprietà, il fondo Iliott non vuole destabilizzare questo Milan, questo Milan voglioso, e trovo veramente inopportuno che alcuni giornalisti, alcuni telecronisti rossoneri, possano in qualche modo, diciamo per protagonismo, possano cercare di destabilizzare l'ambiente, destabilizzare i tifosi rossoneri che in questo momento devono avere un unico obiettivo. Un unico obiettivo come quello che ha il Milan, di essere unito, compatto, coeso, verso un unico obiettivo, ovvero tornare in Champions League. La qualificazione in Champions League è molto più importante della permanenza di un dirigente, di un giocatore. È fondamentale per far sì che il Milan possa tornare ai fasti di un tempo, per tornare in pianta stabile in Champions League, per poter permettersi acquisti importanti. Quindi in qualche modo ci dissociamo in maniera clamorosa, netta, da chi vuole in qualche modo destabilizzare l'ambiente rossonero. Sono voci, sono voci inopportune in questo momento, anche perché bisogna studiare bene la storia di Ivan Gazzidis. Ivan Gazzidis è amico del figlio, è a grande stima la proprietà Singer di Ivan Gazzidis. Il figlio di Gordon Singer ha grande fiducia nel settore delegato sudafricano, che non è proprio il primo stupido, come molti lo descrivono. È laureato legge a Oxford, ha creato l'MLS, ha fatto crescere in maniera notevole il fatturato del club londinese. Al Milan ha dettato, ha ereditato una situazione disastrosa. Una situazione disastrosa fatta di debiti, una situazione di giocatori con ingaggi elevati, ma che non rendevano sul campo e in qualche modo ha fatto un po' di pulizia. Poi è chiaro, ci sono dissidi nel mondo del calcio, ci sono visioni diverse, però le persone intelligenti cambiano idea e Ivan Gazzidis l'ha dimostrato. L'ha dimostrato dando fiducia a Paolo Maldini, a Stefano Pioli. E Stefano Pioli ha sempre detto, Ivan Gazzidis non aveva mai comunicato che l'anno prossimo non sarebbe stato la natura del Mina. Ha detto, a fine stagione si valuterà. Ed è giusto che l'amministratore delegato abbia sempre un piano B, perché così un dirigente di imprese deve avere sempre un piano B, qualora le situazioni non andassero per il meglio. Quindi ci dissociamo, ancora una volta, da queste illazioni nei confronti dell'ambiente rosso-nero. Vogliamo che il Mina rimanga unito, il gruppo, la società, e che non si creano dissidi o voci su stampa che in qualche modo possano condizionare il nostro ottimo rendimento. Quindi forza ragazzi, forza società, rimaniamo uniti, rimaniamo coesi, perché saremo più forti se staremo ancora insieme, uniti a lungo. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettermi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.